Ecco, ciao ragazzi, ecco questo è l'outfit, abbiamo questa bagnettina a 3 quarti, fatta così, questa c'è una spilletta ed è fatto in questo modo qui, vedete? Questa è la cintolina a stile impero, qua chiudiamo, aspettate, ecco, tu la farò, ecco, e viene così a modo di, eh, cameraman, a modo di tubino, il cameraman non risponde, a mia madre, questi sono gli stivali, fatti in questo modo, con la pellicciotta, perché va freddo, e poi da sopra, questa è la borsetta, si vede? Sì, da voltare in mano, i guentini, aspettate, e questo è il cappottino, perché va freddo, Si vede così, vero, cameraman? Yeah, ok Non risponde a vergogna Così? Che bella Come far? Questa è la scelta, cioè la... La... Colletto di volpe Colletto di volpe Aspettate, guardate, vedete che sto combinando, ok? Questa è la borsa, e questi sono i guantini, perché fa freddo, ma guardate la particolarità, erano di mia madre, sono diventa di me, ecco qui, mettiamo anche i guantini, come sei bella! E questa è l'outfit intero Sei ok? Ciao amore, ciao!